Il tema dell'inclusione è sempre molto importante per lo sport e anche per il calcio, visto che quello che abbiamo anche visto negli ultimi tempi anche con i casi di razzismo. Non solo nello sport, è nella vita, l'inclusione, sempre. Posso che dovessi dispiace vedere magari chiesa che non gioca così tanto? Parlare con gli allenatori della Juve non con me.